Il soggetto Famiglia fa da cerniera due iniziative proposte dalla Diocesi di Rimini per questo fine gennaio. Si inizia venerdì 25 e sabato 26 gennaio con il convegno I preadolescenti e i loro mondi vitali, proseguendo poi con la settimana sociale dal 31 gennaio al 2 febbraio dal titolo La Famiglia, Speranza e futuro per il nostro territorio, in preparazione alla 47esima settimana sociale dei cattolici che la Chiesa italiana organizzerà nel prossimo mese di settembre. Il convegno sui preadolescenti intende rispondere ad un'esigenza diffusa di conoscere in modo più approfondito questa età ed i mondi adesso legati. Un'età delicata, bella, affascinante, ma anche pericolosa per certi aspetti. Vorremmo con questo convegno avere degli strumenti in più per ascoltarli, capirli e comunicargli quello che noi vorremmo trasmettergli, quello che ci sta più a cuore, la fede e il rapporto con Cristo. Per quanto riguarda la settimana sociale, al centro della riflessione si porrà la famiglia come risorsa sociale e non come problema, soprattutto in un momento di crisi economica come quella attuale che mette a dura prova molte famiglie, una crisi che non è puramente legata al denaro ma che è anche etica e spirituale. La famiglia è come una risorsa per la società, soprattutto di fronte alla crisi di oggi, mi sembra che la famiglia che è un po' al centro di tutte queste dinamiche dove molta gente, problemi di lavoro, problemi come dicevo prima di famiglia, tempi di lavoro, sono enormemente messi in discussione, per cui anche la famiglia e i soggetti che formano la famiglia devono un po' ripensare la loro vita, per cui la Chiesa vuole essere vicina a queste persone ma soprattutto vuole invitare coloro che hanno la responsabilità e soprattutto anche in questa campagna elettorale di mettere sempre di più al centro la famiglia come soggetto complessivo. Sul convegno e sulla settimana sociale è intervenuto anche il Vescovo Francesco Lambiasi che ricordando il lavoro di Dono Reste Benzi con i preadolescenti ha voluto inviare due messaggi. Il primo che è necessario presentare ai ragazzi un Gesù simpatico, vero ed autentico, aiutando i genitori, i docenti, i catechisti e le comunità cristiane ad educare e formare i giovani. Il secondo messaggio è un messaggio di speranza. Educare non è mai stato facile, oggi non lo è di meno, ma è ancora possibile.